Vengono riunificati quel filone dei procedimenti Banca Truria che riguardano il collocamento alla clientela dei famosi titoli obbligazionari e in più i vertici intermedi. Verso un unico processo per riunificare così tutti i procedimenti con gli stessi capi di imputazione, questa mattina da Rezzo un nuovo passaggio in aula per il filone di inchiesta relativo alla truffa a carico di alcuni funzionari dell'istituto di credito accusati di aver istigato i dipendenti della banca a vendere le famigerate obbligazioni subordinate diventate carta straccia a seguito del decreto salva banche. L'idea è comunque che vi fosse una cabina di regia che avrebbe portato in un certo senso istigato comunque promosso questa vendita di prodotti ad alto rischio nei confronti di soggetti che non avevano questi requisiti. L'udienza di questa mattina si è conclusa con un rinvio al prossimo 18 gennaio quando saranno ascoltati i primi testi della pubblica accusa. Sono gli operatori di polizia quindi giudiziaria, testimoni dell'accusa, si comincerà a individuare quello che era il perimetro in cui sono state vendute le obbligazioni, le famose quindi obbligazioni che hanno dato, che sono stati oggetti di azzeramento. Sarà dunque una vera e propria maxiudienza nella quale confluiranno i vari procedimenti sui quali dovrà esprimersi un unico giudice, Angela Avila. Questa mattina infine circa una ventina di risparmiatori si sono costituiti per arte civile. I miei si sentono quindi di aver subito quindi un reato e ritengono che la sede principale per comprendere e far luce su tutto quello che si è verificato sia proprio quindi il processo e il ricorso alla magistratura.